Siamo nella sala stampa dell'Allianz Arena dove tra poco Pep Guardiola farà la sua prima conferenza stampa dall'allenatore del Bayern. C'è tantissima attesa, ci saranno qui oltre 200 giornalisti giunti da tutta Europa per seguire e ascoltare le prime parole di Pep Guardiola che secondo la stampa tedesca saranno in tedesco. L'allenatore appunto, il nuovo allenatore del Bayern infatti, vuole iniziare col piede giusto, vuole parlare nella lingua madre del Bayern Monaco proprio per dimostrare di essere già in sintonia con la mentalità e la cultura bavarese.